Musica Bentornato Guglier, bentornata Iniziamo a parlare di driver Possiamo iniziare con una battuta del tipo Ma ce l'hai la patente? Perché da oggi inizierai a guidare Sì, ti trasformerai in pilota Giusto per farti comprendere cosa significa immediatamente la parola driver Ossia pilota, pilotare Cos'è un driver? Dal punto di vista informatico naturalmente sono dei bit Che possono essere intesi come file, dei programmi Che permettono ad un sistema operativo Appunto di comandare, pilotare un qualsiasi dispositivo hardware Senza tale artificio, un sistema operativo non potrebbe mai comandare Alcun tipo di risorsa hardware Un po' quello che accade quando otteniamo la patente È una licenza che attesta le nostre capacità di saper guidare Un'automobile, una moto, un tir o qualsiasi altro mezzo Potremmo addirittura nemmeno sapere come funziona il mezzo che guidiamo Lo guidiamo e basta Beh, il sistema operativo comanda un determinato dispositivo Avendo appunto la licenza di guida in suo possesso Ossia dei driver installati al suo interno Quali sono le tipologie dei driver? Beh, i driver non sono tutti uguali Nel senso che nel momento in cui installi sul tuo sistema operativo I driver per una determinata stampante Ciò non significa che questi driver Siano in grado di pilotare tutte le stampanti esistenti al mondo In quel dato periodo Ma solo quella specifica stampante Intesa come marca e modello Aggiungo che i driver si differenziano per famiglie di sistemi operativi Infatti troverai i driver per i sistemi operativi Windows I sistemi operativi Linux, Mac e tutti gli altri sistemi operativi esistenti I driver saranno differenti anche all'interno della stessa famiglia Ad esempio quella Windows Ci sarà una diversità di norma per le versioni Windows 98, XP, Vista, Windows 7, 8 e quelli futuri Anche se in alcuni casi verrà rispettata la compatibilità tra più versioni Saranno diversi anche in base alla tipologia del sistema operativo Se esso è costituito da una versione a 32 bit o a 64 bit Saranno diversi per dispositivi Ossia per famiglie di dispositivi Ci saranno i driver per le stampanti I driver per i processori Per le memorie, per i vari lettori e così via Ed infine saranno anche ben diversi in base alla marca e modello del dispositivo Che andrai ad acquistare Sembra tutto difficile, complesso E che ci possano essere tantissime tipologie di driver In effetti è un po' così Ma tutto si riconduce a Dovrò scaricarmi un driver per una determinata stampante Per un determinato modello della stampante E per un sistema operativo ben definito a 32 o 64 bit Non potrai utilizzare un driver Che è nato per una determinata periferica E pilotato per un sistema operativo Windows Con una determinata versione Utilizzando lo stesso driver per la stessa periferica Con un altro sistema operativo Magari della famiglia Linux Sono ben dedicati Normalmente anche all'interno della stessa famiglia O Linux O Windows O Mac Possono esserci delle diversità di incompatibilità Tra un driver e l'altro Soprattutto se i sistemi operativi sono molto distanti Tra di loro Come tipologia Chi produce i driver? Normalmente l'azienda anche che produce il dispositivo La quale rilascerà la prima versione dei driver Ed eventualmente i successivi aggiornamenti Finché lo riterrà opportuno Acquistando il prodotto Normalmente troverai all'interno della confezione Il supporto ottico Che ti permetterà di installare i driver Di quella specifica periferica E per lo specifico sistema operativo Dove puoi trovare i driver? Ma nell'ipotesi di assenza del supporto ottico All'interno della confezione Dovrai procurarteli Come? Un produttore serio Mette a disposizione un centro di supporto online Da cui poter ottenere appunto i driver Sarà sufficiente Collegarti al sito padre E ricercare all'interno dello stesso I driver ufficiali Tramite una pagina di supporto Quindi dovrai andare a individuare La zona di supporto Definita come download Oppure supporto tecnico Supporto clienti O cose del genere Attenzione È rischioso installare driver non ufficiali Sia per una possibile instabilità Che creerebbero al sistema operativo Sia perché potrebbero essere anche file Contaminati da malware E quindi mettere a rischio La salute del tuo sistema operativo E cosa ancora più grave La tutela dei tuoi dati personali Ciò non toglie che sarà possibile anche in alternativa Una collaborazione nata tra il produttore Ed aziende di terze parti Per il rilascio del software di gestione dello stesso La ricerca dei driver può portarti anche verso taluni siti Che forniscono assistenza per lo più automatizzata Tramite un software presente all'interno del loro sito Che tramite una procedura guidata Ti permetterà tramite una selezione successiva di alcuni parametri Il raggiungimento del driver che dovrai scaricare Oppure tramite un programma installato sul sito Avrai la possibilità di aver scansionato l'hardware del tuo computer Evidenziando un rapporto diagnostico sullo stato e la versione dei driver installati Ed eventualmente anche provvedere tramite dei link A raggiungere il produttore degli stessi Per scaricare l'ultima versione Tale tipologia di norma è adottata da servizi a pagamento Nulla in contrario naturalmente L'importante è che tu sia in grado di poter decidere Se è il caso di accedere a tali servizi a pagamento oppure no Se la priorità è naturalmente il tempo Ciò può essere la soluzione migliore Se invece la priorità è il portafoglio Proprio per evitare i servizi a pagamento Naturalmente dovrai tu sorbarcarti del tempo necessario Per la ricerca di driver compatibili Ed anche testarli oltretutto E qui, proprio per una fase di test Ti rimando alle ultime due lezioni 91 e 92 In cui ho parlato della virtualizzazione E comprendere come poter impiegare I processi di virtualizzazione Per testare eventuali incompatibilità Tra driver e periferiche E sistema operativo Ti rimando alla prossima lezione Per continuare la descrizione dei driver Ora un forte saluto Ciao a presto da Gallo e dalla prossima Ciao a presto! 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 Ciao a presto!